Tu sei credente? Credi in Dio, Peter? No, assolutamente no. Figurati. Il mio fratello è stato prete, anche la mia sorella. Per me, la mia religione è l'arte. E molto chiaro. Peter Stein, in qualche modo, il teatro per caso è venuto o per destino? Queste sono grandi parole. Sicuramente era previsto per me un futuro dell'ingegnere. Io non avevo e non ho qualsiasi tendenza artistica. Ho scritto poesie, storie, ho tentato di fare disegni, ho cominciato a suonare il violino. Ho tentato, ma è un risultato devastante. E così allora decido di occuparmi dell'arte come osservatore, di occuparsi scientificamente. Così sono andato all'individuità studiando la letteratura tedesca e la storia dell'arte. Nel fare una regia, tu pensi al pubblico? No. Io penso all'autore. Il problema è che voi avete in fronte di voi non un regista. Come si pensa in Italia che sono creatori. I veri creatori sono gli autori. Noi siamo ri-creatori. Nient'altro. Non mi mai sentito con una visione? No. Come io ho ricostruito San Pacrazio, al massimo la sua originalità, così io tento di ricostruire la prima mondiale di ogni testo. In un certo senso, chiaramente con i mezzi di oggi. Che rapporto hai con gli attori? Sono un regista degli attori. Io li amo pazzamente. Se tu mi vedi lavorare con gli attori, tu capisci immediatamente che io osservo gli attori eccetera eccetera e loro sono la mia matita per scrivere. L'immagine che io avevo del lavoro teatrale, ci sono tre elementi. L'autore del testo, l'attore e io. Tre. Questa è la mia idea, che la prima discussione, chiaramente, su un testo è con gli attori. Perché portano con il loro fisico il testo sul Paco Scenico. Così sono totalmente dipendenti degli attori. Hai avuto dei maestri a cui ti sei ispirato quando magari eri più giovane oppure dei punti di riferimento? Ma sì. Una delle cose dell'attività della memoria, dell'interesse per il teatro come era una volta, ha come conseguenza che nessuno più riconosce i maestri. Ma il problema è che senza maestri come voglio imparare. Così chiaramente io sono interessato per la nascita della regia che cominciava abbastanza tardi. Cominciava in Germania nell'Ottocento, metà fino all'Ottocento. Capire queste cose qua non come storia del teatro, ma come capire i mezzi che sono stato utilizzato. E così chiaramente io avevo un contatto che mi ha molto molto impressionato e per me era anche molto importante. Un attore degli anni 20-30. Il primo attore scandalo. Era Fritz Kortner si chiama. Il primo attore della regia che si chiama.